Curare i pazienti con un sorriso è un gioco, sembra impossibile ma è quello che cercano di fare i clown dottori dell'associazione Andrea Tudisco nell'affiancare i medici nel reparto di pediatria dell'ospedale Sant'Andrea di Roma. Un cane realizzato con un palloncino o un'occasione di svago può infatti aiutare i bambini ricoverati ad affrontare meglio la degenza. Da quattro anni l'associazione è presente nell'ospedale di Via di Grotta Rossa grazie al progetto finanziato da Roma Capitale Sorridi in Ospedale. L'assessore capitolino alla famiglia Gianluigi De Palo ha visitato l'unità diretta dalla professoressa Maria Pia Villa incontrando i piccoli pazienti ricoverati e i loro genitori ma anche alcuni dei clown dottori che prestano servizio nel reparto. Il progetto ha finora suscitato molti effetti positivi sulle famiglie e sui sanitari tanto è vero che viene riproposto ogni anno da parte del Campidoglio dal 2000 e coinvolge tutti i più importanti nosocomi romani mettendo a disposizione 500 mila euro. Un unicum si potrebbe dire perché l'iniziativa della clown terapia negli ospedali intrapresa dall'amministrazione è la sola in tutta Italia. Il progetto ha ribadito l'assessore De Palo verrà comunque mantenuto nonostante i tagli e le politiche sociali. Un progetto che dura da 12 anni, attivo in 9 ospedali e che incontra ogni anno 17 mila bambini per cui la malattia diventa più lieve grazie ai clown dottori. Ci crediamo profondamente anche perché il riscontro che abbiamo dalle famiglie, dai bambini è un riscontro positivo. I bambini hanno bisogno in un momento difficile da loro vita, di fragilità come avremo tutti e come abbiamo avuto tutta la nostra vita di essere accompagnati anche attraverso il sorriso. L'attività dell'associazione Tu Disco nell'ospedale Santa Andrea ci è stata spiegata dalla presidente Fiorella Tosoni. Qui svolgiamo attività di clown terapia con il bando del comune di Roma Sorridi in Ospedale. In più con fondi dell'associazione svolgiamo anche la clown terapia il pomeriggio dove vengono i nostri volontari per far giocare e divertire i bambini in modo che l'ospedalizzazione sia meno triste e meno pesante per i bambini e per i genitori. Spieghiamo che cos'è la clown terapia, differente dalla ludoterapia. La clown terapia, come dice lo stesso nome, è una vera e propria, chiamiamola così, terapia del sorriso che serve a sdrammatizzare la situazione ospedaliera, le pratiche invasive e dolorose che vengono spesso fatte al bambino. I clown dottori mettono in atto delle vere e proprie tecniche di distrazione che servono proprio ad allontanare il bambino dall'idea del dolore che sta provando in quel momento, dall'ansia e dallo stress. La ludoterapia invece è tutt'altra cosa, cioè si tratta di far trascorrere il tempo che non passa mai in ospedale ai bambini nel migliore dei modi, facendoli interessare a delle attività manuali che appunto li divertono e li fanno sentire un po' più vicini al gioco. I vantaggi della clown terapia e della ludoterapia sono testimoniati dagli stessi sanitari che quotidianamente sono a contatto con pazienti e genitori. La clown terapia ha una valenza di cura, ha una valenza di terapia. A noi serve per alleggerire il peso delle procedure, il peso dello stress del bambino e della famiglia, anche il dolore. Loro dimenticano il dolore. Ma questo non è solamente un fatto così da raccontare, è un fatto scientificamente provato perché nel momento in cui si sorride e si è allegri, si attivano proprio delle altre reti neuronali tali da bloccare la rete del dolore. Quindi l'effetto è un effetto reale, non è solamente un effetto placebo. Sono quattro anni che l'associazione è attiva nel suo reparto. È stata subito accettata questa presenza, possiamo dirlo, estranea? Inizialmente eravamo un po' scettici perché la prima impressione era oddio, ci creano confusione, perdiamo il ruolo, come facciamo? Direi che è stato un attimo però perché intanto c'è grandissimo rispetto nel senso che ciascuno rispetta il ruolo dell'altro e io rispetto il loro ruolo come cura. Allora la sintonia è poi venuta immediata, adesso quando non ci sono io dico ma dove sono i clown? Entro nelle stanze e dico ma chiamati clown perché il bambino, l'abbiamo fatto presto, devo dire, a integrarci ed è una cosa che ci aiuta, aiuta anche noi medici. Grazie a tutti.